musica 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 bellii qual cazzo ah ah grazie per avermi aperto la cassa mi hai aiutato musica 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 Grazie a tutti 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 Oh Mi ha laggato il gioco Oddio mi ha laggato il gioco E mi ha buttato Mi sono teleportato giù Infatti mi sono spaventato Raga Ok con ca... Bella sta cosa nel muro Dei dato In verità non sono io che gioco Ma è un bot Un computer che gioca al posto mio Ed è per quello che sembra Che io non mi muovo Io ti faccio finta di toccare la tastiera Un pochino come Giovanni Muciaccia Quando fa finta di fare le creazioni In verità c'è un'altra persona Che le fa al posto suo Finalmente tutti gli allenamenti Che ho fatto in sti giorni Hanno dato i suoi frutti Non c'è nessuno Che sadness Non fare questi 360 di volte Perché poi lo devo cambiare Di qualcosa Come sono diventato così bravo e preciso Con la mira Guarda sono diventato così bravo e preciso Essendo molto autocritico con me stesso Quello fa tantissimo Come sono diventato così bravo e preciso Che stava sparando questo Scusatemi ma chi stava sparando Sparava a caso Che faceva Non capisco cosa stava facendo Dai che se tutto va bene Questo qui è un iKillGames ragazzi 20 bomb incoming brothers Grazie a tutti Sì. Sì. E questo è come gioco, ragazzi. Non è male. Non è male. No, vabbè, ma, brudas. Ne sa, niente ai kill games, ragazzi. Quindi potete pure levarvi le cinture. Non è male. Ragazzi, potete pure levarvi le cinture. Mi sa, niente ai kill game. Non è male. 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 Vi toccate, ragazzi, quando faccio queste cose. Non è male. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti